E ormai è diventata la vetrina tradizionale dei servizi educativi del Comune. La giornata dell'infanzia torna sabato 14 gennaio in modalità online dalle 10 alle 12. Le famiglie interessate con bambini fino a 6 anni d'età potranno seguire la diretta sui canali istituzionali del Comune, su Facebook o su YouTube per conoscere l'offerta formativa di nidi e materne, ma anche le modalità di iscrizione con criteri, tempistiche, graduatorie, tariffe e tutte le informazioni sul servizio mensa. Modalità di nuovo interattiva che abbiamo visto è molto apprezzata dalle famiglie in quanto permette di conciliare i tempi di casa, lavoro, famiglia. Quindi abbiamo continuato a dare questa opportunità alle famiglie. Successivamente comunque da lunedì 16 ci sarà la possibilità di visitare le nostre strutture, tutte le strutture senza nessun appuntamento da lunedì 16 a venerdì 20 negli orari che saranno comunicati attraverso il nuovo nostro portale www.triesteducazione.it. Le iscrizioni all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia saranno aperte sempre in modalità online da lunedì 16 gennaio a venerdì 3 febbraio. Sarà a disposizione le nostre strutture durante le porte aperte anche il fascicoletto imparare a Trieste, quindi un supporto ancora maggiore alle famiglie tramite questo opuscoletto cartaceo in modo tale appunto di dar tutte le informazioni possibili alle famiglie per questo importante momento nella vita dei bambini. Altra novità di quest'anno in vista della giornata dell'infanzia, già a partire da oggi le famiglie possono inviare una mail al comune per fare domande che troveranno risposta nella diretta di sabato 14. Da quest'anno, già da oggi, le famiglie potranno inviare una mail a scuola.educazionechiocelacomune.trieste.it con oggetto nella mail domande giornata dell'infanzia chiedendo tutte le cose particolari che appunto vogliono già sapere.